Buongiorno e benvenuti a questa rasseglia stampa di oggi, martedì 30 gennaio. Vi ricordo che questa sera abbiamo un tour de force, prima Matrix alle 19, sulla radio, e poi dopo abbiamo Matrix in televisione alle 23.30. Oggi ci sarà il ministro Franceschini, cercheremo di capire quanto valga l'arte in Italia e non solo. Parleremo anche di liste, cose che oggi leggo su tutti i giornali. Se volete avere tutti i dettagli sulle liste, prendetevi il vostro giornale locale. Io non riesco a farlo, oggi è proprio quel giorno in cui sono utili i quotidiani, perché ti spiegano esattamente tutti i tuoi candidati nella tua circoscrizione. Sono fantastici tutte le cronache dell'Alto Adige sulla Boschi, tra poco ne parleremo. Il tempo è straordinario nel vedere tutte le liste, tutti i candidati, ad esempio nel Lazio. Ovviamente non ho avuto il tempo di vederle tutti, vi consiglio di farle, se vi interessa, informarsi per capire chi votate, perché in realtà nei collegi uninominali un po' il vostro voto conta, diciamo così. Anche se i criteri che hanno adottato i segretari dei partiti è quello della totale fedeltà. È quasi banale ormai dirlo, sono tre giorni che ce lo spiegano. Siccome non si sa chi vince, a maggior ragione con questa legge elettorale, verranno piazzati soltanto i fedeli dei capi. Sul Movimento 5 Stelle la cosa è molto semplice. I fedeli sono quelli di Di Maio, però non avendo lui un partito alle spalle, ma avendo un algoritmo, non è stato semplicissimo per lui trovare i fedeli. Oggi ne parlano tutti i giornali dell'ammiraglio, com'è che si chiama? Stammiraglio Veri, che era candidato, era stato presentato in pompa magna da Di Maio. In realtà questo ammiraglio Veri era alleato con Renzi in un'altra giunta di cui faceva parte. Devo dire che ce ne sono cose ridicole di tutti i tipi. Non è che dall'altra parte è più divertente la storia di Mancini Junior, il quale se viene eletto alla Camera e al Senato, e quindi venendo eletto con il centrodestra, se viene eletto con il centrodestra lascia il suo posto in Consiglio regionale dove è di sinistra ed entra uno di sinistra. Stiamo facendo veramente una specie di mismatch. E' chiaro che quello del Parlamento è diventato una specie di ufficio di collocamento. Nel Movimento 5 Stelle ne abbiamo parlato, anche se in questo caso devo dire che il problema non è tanto di Di Maio che non può scoprire mille diputati, se sono intonsi, bravi, competenti, non avendo un partito, è difficile farlo, ma forse, e anche nei partiti non ci riescono tanto, ma forse è ridicolo l'ammiraglio, pensate poi che manieravamo, che non spiega al Movimento 5 Stelle qual è il suo curriculum, che è molto banale. Sto con Renzi nel Consiglio Comunale e sto con Grillini nelle liste nazionali. E' una roba, insomma, mi sembra incredibile. Ma voglio dire, Forza Italia è piena di gente che stava prima col PD, poi è passata con i centristi, poi è passata con i leghisti, la signora Buongiorno era al braccio destro di Fini, era montiana e sta con Salvini, e così, insomma, non mi scandalizzo. Mi scandalizza, e in questo forse c'è ragione Bisignani, che oggi fa un fondo sul Corriere della Sera, e scusatemi su Corriere della Sera, sul tempo di Chiocci, a Hug Giorgio, e Bisignani cosa dice? Ma perché Forza Italia ha fatto delle liste così drammaticamente piene di cariati, cioè dei vecchi, i giovani che aveva promesso Berlusconi, le facce nuove, dell'imprenditoria, delle professioni? Zero! No, ce ne sarà qualcuno, ma non ce ne siamo accorti, ecco, diciamo così. Fino a questo momento non ce ne siamo accorti, dice Bisignani sul giornale di Chiocci, dice forse perché vuol fare l'accordone con Renzi, e quindi ha bisogno non solo di fedeli, ma di non andare così bene, perché se avesse messo delle figure, diciamo, più rispettabili dal punto di vista dell'elettorato, forse avrebbe avuto più voti, e quindi avrebbe stralinto le elezioni, cosa che lui non vuol fare. Io non sono così dietrologico, quello che penso è che ogni partito infelisce a modo suo, il PD subisce la leadership ferre e arrogante di Renzi, il Movimento 5 Stelle subisce la leadership di Subdola, di Casaleggio e di Di Maio, e il partito di Berlusconi, che sarebbe il terzo partito italiano, subisce la leadership delle diverse bande che sotto al leader Berlusconi fanno quello che pare loro. Ma sull'elettorato è sempre stato così. Il secondo grande tema di giornata sono le cavie umane che sarebbero state usate dalle case noministiche tedesche. Su questo mi interessa l'interpretazione del foglio, a differenza dello scandalismo, ne parleremo anche questa sera a Matrix. Sapete cosa dice il foglio? Dice che intanto alcuni sostengono che le cavie in Germania sono legittime. Come voi sapete esistono delle cavie sulle quali si testano dei farmaci, in Svizzera, in Italia si fa in Svizzera dei ragazzi per testare i farmaci, giusto o sbagliato che sia, sono loro che individualmente questa cosa la fanno, primo aspetto. Secondo aspetto, dice il foglio, se queste cavie autonomamente hanno deciso di farlo e lo hanno fatto per la buona ragione di vedere qual è il modo per ridurre gli effetti e testare gli effetti dell'inquinamento sulla malattia delle persone, beh, insomma c'è un disegno, diciamo, etico, posto che è molto borderline, l'idea che si possono utilizzare i cavi umani anche se consenzienti, che è accettabile. Non sto scusando i tedeschi, sto cercando di dire, cerchiamo di vedere bene cosa c'è di questa, e qua arriva sempre il solito. Di Bagnai, candidato della Lega, non parli? Ma che cacchio c'entra? Ma che cacchio c'entra complottisti? Adesso arriverà uno dei Movimenti 5 Stelle che mi dice, e della Ruocco non parli? E del tuo amico Ruggeri, che non è più candidato capolista, non parli? Io parlo di temi generali e di quello che cavolo mi pare. Quelli che dicono, e del candidato Bagnai non parli? Come se ci fosse, no, un complotto di Bruxelles contro sti cretini che pensano che ci sia sempre un complotto. Io questi che fanno così sulla rete mi fanno venire, come avete capito, un po' di sangue al cervello. No, non parlo di Bagnai, va bene? Non parlo di Bagnai, non parlo del mio amico Borghi, non parlo dei singoli cosi, perché oggi non mi va, va bene? E non succede nulla se non ne parlo, perché parlo di quello che mi pare e se non vi piace che non ne parlo di Bagnai, non ne parlo, va bene? Cavoli! Ciao Christian! Bene, mi avete fatto interrompere il coso. Sul lema la cosa ridicola è che l'Olanda ha vinto l'Agenzia per il farmaco, ma la sede non va bene. Era il primo punto per vincere l'Agenzia per il farmaco. I grandi strateghi strateghi che hanno deciso che la vittoria dell'EMA avvenisse per sorteggio, sorteggiano l'Olanda che non ha la sede. Attenzione, quando noi facciamo gli italiani, brava gente che fa casino, eccetera, gli olandesi sono figli di pirati, pirati straordinari in un piccolo pezzo di terra, oltre ad averlo rubato all'acqua, straordinari nell'avere, diciamo, come posso dire, un atteggiamento un po' predatorio. Noi che parliamo sempre male della nostra indole italiana, del gesticolare, della nostra inaffidibilità, beh, state attenti perché gli olandesi non è che siano il popolo più noto per la sua affidabilità. Molto bravi a prendere le aziende italiane per motivi fiscali, molto bravi a prendersi l'EMA quando la sede non ce l'hanno, non ce l'ho con gli olandesi, ce l'ho semplicemente con la caratteristica degli italiani di denigrarsi sempre nei confronti dei popoli civili europei, quelli sì che hanno una certa sedietà. Non ce l'hanno manco la sede, altro che serietà. Un'altra questione che a me affascina, eccolo là, di Matteo, Borghi e Bagnai non si toccano, quando tu hai i leghisti che diventano come grillini, figuratevi un po' voi se torco Borghi che conosco da la vita, ma parlo di chi mi pare, parlo soprattutto oggi della prima pagina di Repubblica, perché io dico ma a Repubblica non c'è più nessuno che come si suol dire passano i pezzi, cioè li controllano, oggi Benedetta Tobagi che ha un solo merito, cioè essere figlia di un padre ammazzato che scriveva benissimo e che era coraggioso, il padre non la figlia, che è il prototipo della donna che scrive le cose che volete sentirvi dire, il problema è che le scrive in un modo tale per cui noi ci lamentiamo della scuola italiana, ma qua ci dobbiamo lamentare dei giornalisti, sono giornalisti italiani, io vi voglio leggere perché questo è un caso di giornalismo italiano, vi leggo le prime righe del pezzo di Benedetta Tobagi sulla prima pagina di Repubblica, me la sono appuntata, se ti concentri abbastanza a lungo vedrai che ritorna, magari a spizzichi e bocconi, più spesso quasi intatto, due punti, l'elenco sempre uguale, ascoltato ogni mattina da bambino per settimane, l'appello di classe, una griglia in cui ritrovare impigliate tante memorie implicite del quotidiano, ma come scrive? Ma come scrive? Ma voi vi rendete conto? Cioè, se ti concentri abbastanza a lungo vedrai che ritorna magari a spizzichi e bocconi, più spesso quasi intatto, ma si può costruire un pensiero? Io vorrei fare Nanni Moretti, Nanni Moretti, vi ricordate? Le parole hanno un peso, che cavolo voleva dire? Ma si può scrivere così? Si può scrivere? Se ti concentri abbastanza a lungo vedrai che ritorna magari a spizzichi e bocconi, più spesso quasi intatto, l'elenco sempre uguale, ascoltato ogni mattina da bambino per settimane. Finalmente capiamo cos'è, perché lei è una poetessa, l'appello di classe, una griglia, sentite la banalità della costruzione poetica, l'appello di classe, una griglia in cui ritrovare impigliate tante memorie implicite del quotidiano, memorie implicite del quotidiano, ma che cosa vuol dire? Perotti contro su Repubblica, che è una persona invece seria, bravo, bravo Giovanni, prendevi tre al liceo se scrivevi una cosa di questo tipo, Perotti straordinario, come sempre nelle sue analisi, anche se non le condivido, dice che la flat tax è sbagliata e fa un po' di conti sul fatto, il punto fondamentale per il quale Perotti dice che la flat tax è sbagliata, io stiamo molto Perotti, scrive delle cose che io talvolta condivido, talvolta no, sulla flat tax il tema fondamentale mette insieme quella della Lega e quella di Forza Italia e sbaglia perché hanno due valori completamente diversi e quindi questo è il primo errore di Perotti, ma dice che non hanno coperture. E l'altro errore che commette Perotti, secondo me in buona fede, perché mi fido di lui, è che quando dice che la flat tax non ha coperture, mette nella proposta di Forza Italia anche tutta un'altra serie di bagianate fiscali, promesse fiscali che fa Forza Italia che nulla hanno a che vedere con la flat tax, quindi caro Perotti non puoi distruggere la flat tax perché dice che non ha coperture se associa la proposta di Forza Italia tante altre proposte che hanno costi che non sono direttamente connessi alla flat tax, non so se avete capito. Detto questo, il pezzo è molto interessante e vi consiglio di leggere. Ultima cosa, perché abbiamo fatto un po' tardi, Filippo Facci, favoloso, oggi sempre controcorrente, fondo di Libero, in cui dice, racconta il caso di Cronaca, in cui una scemotta non si voleva far curare da un medico nero a Como, a Cantù, dice, no, no, io dal nero, dal negro, come dice lei, io non mi faccio toccare e dice, è il cane che, è l'uomo che morde il cane, quindi tutti i giornali ne parlano, il, ecco, il Salvini, il leghista, la razza di Fontana, ma dice, facci, non diciamo stupidaggini, è un caso talmente raro appunto del cane che viene morso dall'uomo e perciò tutti ne parliamo, ma la realtà è che il 90% di casi è di donne musulmane che non si vogliono far toccare da medici non musulmani o da uomini musulmani che non si vogliono far toccare da mediche donne, da dottoresse italiane, e qui dice, in realtà, questo, ci stiamo accanendo contro il problema di questa scemotta, perché ha sbagliato a dire che non si fa curare da un nero, ma è del tutto evidente che ha sbagliato, non è una cosa, è una cosa di ignoranza, non di civiltà, e non ci si ricorda, dice Facci, come il problema vero non è una persona che non vuole il medico nero che ci ha scherzato in maniera straordinaria, ma tantissime purtroppo famiglie musulmane residenti in Italia che non vogliono essere toccate da medici che non siano della loro religione o che siano donne quando sono gli uomini ad essere curati. Questo è, se vi pare, la zuppa di porro di oggi, appuntamento a questa sera, ricordatevi di condividerla, oggi mi sono messo dritto, non c'è nessuna cervicale che tenga e quindi vedetevela e condividetela sulla rete di Facebook. Un abbraccio a tutti quanti voi e vi do appuntamento questa sera con tutti i nostri appuntamenti televisivi e radiofonici. Ciao!